Musica Dopo l'aggressione in via palestro residenti e commercianti chiedono maggiore sicurezza, servono telecamere e più illuminazione dicono Senza tetto trovato in fin di vita con un coltello nello stomaco, i pendolari danno l'allarme ma nessuno ha visto nulla, al vaglio le immagini di video sorveglianza Pronto sono l'avvocato Valentini, truffatore cerca di spillare soldi, a 15 anziani padovani ma loro non si fanno raggirare e chiamano i carabinieri Anche il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per l'ex sindaco di Avano Terme in carcere da giugno per lo scandalo Tangenti Spettacolare incidente a Campo San Piero, camion si scontra con un'auto e finisce in canale, pompieri al lavoro per verificare la stabilità del ponte Referendum, nasce il comitato sì per cambiare Padova tra i sostenitori, anche i sindaci del centro-destra Ieri sera a Focus, il sindaco di Padova ha attaccato il governo, la vittoria di Trump potrebbe essere il preludio della sconfitta di Renzi al referendum, dice Una buona serata e un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Padova Dopo l'aggressione avvenuta in via palestro, residenti e commercianti si interrogano sulla sicurezza in zona e lanciano un allarme o meglio una richiesta all'amministrazione C'è tanta gente non affidabile diciamo, io vado a lavorare alle 5 di mattina che lavoro in ospedale e qua vedo parecchia gente con cappucci che girano e non è tanto da stare tranquilli C'è timore in via palestro a Padova dopo l'aggressione ad una 25enne proprio davanti alla sua porta di casa È stata assalita alle spalle da un uomo che le ha tappato la bocca, voleva rubarle il cellulare ma lei è riuscita a reagire mettendolo in fuga L'episodio però torna a preoccupare residenti e commercianti della zona che chiedono maggiore sicurezza Un po' di più sicurezza ci vorrebbe, senz'altro, però qua non fanno niente Le telecamere mancano, però per dirti sì le ragazze è poco sicuro quando girano di qua la sera Quello sì, che ci sono tanti diciamo per lo più alla sera stranieri che di giorno I controlli ci sono, il problema è che quando li prendono già non lo possono fuori, per cui non cambia assolutamente niente Direbbe usare un altro metodo ma non si può Io credo che l'illuminazione sia indispensabile, poi il discorso telecamere o altre cose Ci sono dei punti dove sono già installate, ritengo sia sufficiente Ma continuiamo a parlare di sicurezza in città, ci spostiamo in stazione dove un uomo è stato accoltellato Accasciato a terra con un grosso coltello da cucina conficcato nel torace L'allarma in pieno giorno in stazione a Padova è stata data da alcuni pendolari Che all'ora di pranzo si sono accorti di un uomo in fin di vita raggomitolato in un lago di sangue Lungo il passaggio pedonale che collega i binari con via avanzo Proprio a pochi passi dal cantiere per il nuovo sottopasso Sul posto la squadra mobile che ha recuperato l'arma mentre l'uomo è stato portato in condizioni disperate all'ospedale Un episodio misterioso con molti lati oscuri Potrebbe trattarsi di un tentato omicidio, il ferito è un romeno senza tetto La polizia però non esclude nemmeno l'ipotesi del tentato suicidio Gli agenti in queste ore stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza Anche se il punto dove è avvenuta la presunta aggressione è poco coperto dagli occhi del grande fratello cittadino I pendolari che ogni giorno passano per quel punto della stazione diretti all'Arcella Oggi hanno affrettato il passo e questo episodio inquietante potrebbe riaccendere l'attenzione Sulla situazione sempre critica di questo punto della città Anche all'interno dei vagoni poche ore fa si è verificato un'aggressione ad una giovane donna di Este La 33enne avvocato civilista dell'Università di Padova si è sfogata su Facebook Raccontando di essere stata minacciata e insultata da un magrebino A cui aveva appena chiesto di togliere i piedi dal sedile per far spazio a chi si voleva sedere La giovane è stata più ripresa aggredita verbalmente dall'uomo Fino a quando giunta in stazione non ha raccontato tutto alla polizia ferroviaria Che ha identificato e denunciato lo straniero E un 44enne albanese è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale E danneggiamento aggravato dopo aver speronato ieri sera l'auto della polizia Per fuggire ad un posto di blocco fermato all'alt degli agenti Infatti l'uomo ha subito ingranato la retromarcia speronando la loro auto e poi dandosi alla fuga E' iniziato un inseguimento anche con l'aiuto di una seconda vettura della polizia Ed è stato dunque fermato poco dopo Allarme truffe agli anziani Ben 15 tentati colpi a Padova in azione Un falso avvocato Sentiamo Pronto, sono l'avvocato Valentini Suo figlio ha provocato un incidente Deve pagare 5.000 euro ad un mio incaricato per consentire le pratiche di rilascio Ben 15 anziani padovani hanno ricevuto questa telefonata ieri pomeriggio Tutti residenti nella stessa zona del quartiere Savonarola Il fantomatico avvocato Valentini ha tentato di mettere a segno una raffica di truffe Ma gli attenti nonni padovani non si sono fatti abbindolare Hanno allertato i carabinieri In molti hanno spiegato che dopo aver sentito parlare di questo tipo di raggiro dai media E negli incontri con le forze dell'ordine sono più restie a dare retta a sconosciuti Che si spacciano per avvocati Tuttavia resta il dato inquietante Ben 15 tentati colpi in poche ore solo in città Feder consumatori da sempre a fianco alle categorie più deboli Che spesso sono vittime di squali di raggiri a scopo di estorcere denaro Evidenziano l'importanza di conoscere le tecniche di questi furfanti senza scrupolo Ci sono anziani che sono caduti in questa rete che non si sono più ripresi dallo smacco che hanno subito Non è così facile poi affrontare sotto l'aspetto psicologico il fatto di essere cascati all'interno di una truffa di questo tipo Dai finti avvocati ai falsi tecnici di acqua e gas che entrano in casa e rubano la truffa però spesso avviene anche telefonicamente La stessa associazione di consumatori è stata usata come scusa da un truffatore che solo pochi giorni fa ha contattato un'anziana di Veggiano Per proporre spacciandosi per un adetto di Feder consumatori vantaggiosi contratti per forniture elettriche Il conoscere quale forme questi truffatori utilizzano è importante per accendere il campanello d'allarme alle persone anziane Soprattutto alle persone che vivono da sole Niente arresti domiciliari per l'ex sindaco Luca Claudio A Bano Terme il Tribunale del Riesame di Venezia ha bocciato il ricorso proposto dai legali di Luca Claudio contro il no alla concessione degli arresti domiciliari già espresso da giudice per l'udienza preliminare di Padova Margherita Brunello Le motivazioni della decisione verranno depositate nei prossimi giorni Il Tribunale del Riesame forse ritiene ancora valido il rischio di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove da parte dell'ex sindaco di Bano Terme considerato il registro di un sistema di tangenti alle terme A referendum costituzionale tra i sostenitori del sì anche alcuni primi cittadini del centrodestra Sta arrivando il servizio? Siamo convinti che proprio dai sindaci che giornalmente sono il front office della nostra opinione pubblica avvertono in modo particolare questa necessità di cambiare l'organizzazione di questo nostro Stato e quindi questo si può fare veramente in modo trasversale indipendentemente dall'appartenenza qui non votiamo per Renzi o contro Renzi, non votiamo per il PD o contro il PD non votiamo per il governo o contro il governo votiamo per cominciare a cambiare l'organizzazione di questo Stato Soprattutto per i giovani questa sia un'occasione da sfruttare al massimo è un evento storico, se veramente vogliamo partecipare, avere una democrazia vera bisogna votare sì Nasce il comitato sì per cambiare Padova, poche settimane dal referendum costituzionale tra i sostenitori del sì a sorpresa anche sindaci del centrodestra come il primo cittadino di Vigonza e quello di Saonara ora alla guida con una civica mista ma un tempo consigliere provinciale di Forza Italia il comitato è preseduto da Paolo Giaretta L'odio per Renzi politicamente può esistere ma non possiamo far soffrire il paese per sconfiggere il presidente del consiglio a danno dei vantaggi generali della comunità Ci sono sindaci, ex sindaci, amministratori ed ex amministratori della provincia di Padova nel comitato uniti al di là del colore politico Tutti brontoliamo che ci si mette tantissimo a fare le leggi, che il CNEL non serve a nulla che la politica è lenta, che è l'occasione per carità si poteva anche fare meglio però è sempre un primo passo e io credo sia oggi indispensabile dire sì al cambiamento per ridurre i tempi della politica Sul fronte del no c'è invece un altro primo cittadino, Massimo Bitonci che ieri sera era ospite a focus la trasmissione condotta dal direttore Bacialli Spero che porti bene, insomma, quindi bocciatura di Ilari, bocciatura del governo, bocciatura del referendum ecco quindi il prossimo anno andiamo a votare cari veneti che ci state guardando questa sera La vittoria di Trump negli Stati Uniti, preludio della sconfitta di Renzi al referendum del 4 dicembre il sindaco di Padova Massimo Bitonci ne è convinto ospite ieri sera a focus non ha risparmiato gli attacchi al governo in tema di riforma costituzionale a partire dal quesito definito dal primo cittadino padovano ingannevole La gente, pure possiamo parlarne, fare riunioni, la gente quando entra nell'urna vede la scheda tu quando apri la scheda e leggi superamento del bicameralismo perfetto riduzione del numero di parlamentari, cancellazione del CLEL ma chi è che è? Il problema è che è una presa in giro perché non è così tu non puoi semplificare, è la prima volta nella storia che un referendum di questo tipo costituzionale viene fatta una sintesi pro chi l'ha poi scritta A focus Bitonci ha anche parlato di migrazione Ha paura dei clandestini che arrivano in Italia, di questi 200.000 non è problema di quelli che sono arrivati, che si sono già integrati, che hanno il posto di lavoro non è quello il problema, è un problema di carattere numerico è un'invasione questa che c'è in corso è quello che succede anche in America, è quello che succede in Europa, è quello che succede in Italia il problema dell'Italia è ancora più grosso perché purtroppo la posizione geografica dell'Italia che è un ponte naturale verso l'Europa porta un flusso continuo e inavestabile E l'immigrazione, soprattutto l'ospitalità, i profughi sono l'argomento al centro del quesito di Tigilina Aperta che abbiamo pensato di proporvi questa settimana partendo da una nuova accesa discussione avvenuta tra nigeriani, un uomo e due donne sabato sera nella struttura di Montagnana due persone sono finite al pronto soccorso Nuove tensioni dunque in questa ed altre strutture del Padovano ma non solo diteci la vostra opinione attraverso un sms al 345 85 66 847 se preferite inviandoci un'email a padovachiocciolarreteveneta.it i vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali Grave incidente questa mattina alle 10.30 in Via Nievo a Campo San Piero un camion condotto da un uomo di 64 anni di Pordenone all'altezza del ponte che passa sul fiume Tergolino si è scontrato con l'auto guidata da un 56enne di Abano Terme ecco le immagini davvero spettacolari in seguito all'urto il camion come si vede nelle immagini è finito con la parte anteriore nel fiume illeso il camionista lievi ferite invece per l'automobilista sul posto il suo e gli agenti della polizia locale di Campo San Piero e i vigili del fuoco che stanno valutando la stabilità del ponte Vi ricordo questa sera a partire dalle 21.05 come ogni giovedì l'appuntamento con Focus e i Veneti schiacciati dalla crisi in studio con il direttore Luigi Bacialli ci saranno Mirella Tuzzato e molti Veneti che racconteranno le loro drammatiche storie ancora la consegna dell'assegno della settimana e tutte le novità del Banco Solidale come sempre potrete intervenire da casa inviando i vostri sms se non perdete dunque questa puntata di Focus a partire dalle 21.05 vi lascio ora le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata arrivederci Il valore alla tradizione, il valore all'emozione Mengotti, la calzatura per eccellenza nel Veneto dal 1889 Le previsioni per domani in prevalenza nuvoloso con probabilità di precipitazioni in aumento al mattino e nel corso del pomeriggio saranno probabili deboli precipitazioni sparse nevose sopra i 1000-1300 metri temperature minime stazionarie e un leggero aumento massime senza variazioni di rilievo o in lieve diminuzione Il valore alla tradizione, il valore all'emozione Mengotti, la calzatura per eccellenza nel Veneto dal 1889 Del volo Del volo Del volo Grazie a tutti